SONO STATI I DRONI C'è una parte di te che si sente sollevata? Che vuoi dire? Ora che lo sanno tutti non devi più nasconderti o mentire alla gente. Sia chiaro, io non ti ho mai voluto mentire. Ma come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Ora lo sanno tutti. Ma non penso a me. Parecchie persone stanno soffrendo. Sto pensando a come posso rimediare. Peter, a cosa devo il piacere? Mi dispiace disturbarla, signore. Abbiamo salvato mezzo universo insieme. Puoi evitare di chiamarmi signore? Ok. Steven. Suona strano, ma te lo concedo. Quando misterio ha rivelato la mia identità, la mia vita si è incasinata. Per caso tu potresti fare in modo che non sia mai accaduto? Strange. Non lanciare quell'incantesimo. È pericoloso. Bene. Non lo farò. L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man. Aspetta tutti. Qualcuno potrebbe ancora saperlo? Non funziona così l'incantesimo. MJ dimenticherà quello che abbiamo passato insieme. Non alterare l'incantesimo. Oh mio Dio, Ned è il mio migliore amico. Zia May dovrebbe saperlo. Smetti di parlare! L'hai lanciato. Abbiamo alterato la stabilità dello spazio-tempo. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Più lo fai, più diventa pericoloso. Attento a ciò che desideri, Parker. Ciao, Peter. Ciao.